e questo è appena giro la pianta sparanca fino a lì e salti fuori se non ci arriva poi con questa quando ti trovi in quale situazione siediti siediti però porti fuori non tiene perché troppo mosso troppo piano troppo piano vito no vito seconda forte sotto subito deve arrivare il suo manettone ciao ecco il bobone ciao bobone ciao 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 siamo usato ciao senti l'odore dei miei incredibile oggi puzzo solo di moto qua c'è il